streetnews.it, ecco qua, l'abbiamo rintracciato nella platea, è uno degli ospiti della serata, Francesco Casagrande, buonasera. No, sei il secondo che mi ha rintracciato, perché prima è stata l'Equitalia. C'ha qualcosa in sospeso con te? No, no, quasi, no, una bella serata, un grande complimento a voi, perché siete veramente, Davide Lapoletano, per me, anche se è giovane, è un grande giornalista, tu sei un grande intervistatore. Francesco, ti ringraziamo e sappiamo quindi Street News è un quotidiano online, da poco hai rilasciato, vero, anche un'intervista dove hai parlato un po' di te, ma caro Francesco, te sei un cabarettista che adesso si è prestato, infatti, anche al mondo del cinema. Perché? Che cosa stiamo realizzando? No, allo, sto facendo due film, sempre di camorra, dal cabaret sono passato alla camorra, per gioco però, eh, quindi, cioè si fa quello che si può fare. Assolutamente. Ma se mi propongono pure di cantare, quando... No, va bene, va bene. Allora, salutiamo tutta l'organizzazione anche di Miss Mondo Italia, stasera qua, quindi ospite, vero? Sì. Allora, un saluto a te, innanzitutto, a Miss Mondo Italia, scusa, stavo ristratto, stai pesando in ripro, quindi non voglio... È troppo, è troppo divertente. Grazie. Alla prossima, mi fa piacere che stai pure con me. Ci sei una borsa. Streetnews.it, Francesco Casagrande.